Mi bacia il primo ragazzo che incontro Bello questo ascensore Dopo la sconfitta patita con l'Atletico Uri la Cavese proverà a riscattarsi in un derby Domenica prossima sarà infatti a Santa Maria Capo Avetere ospite del Gladiator una formazione che è attualmente una delle ultime della classifica della Serie D Girone G con due punti conquistati A tal proposito è partita la macchina organizzativa per permettere ai sostenitori Aquilotti di essere presenti Come ha reso noto la società Gladiator in prevendita a Cava dei Tirreni nel solito punto vendita adibito per le gare esterne della Cavese ci sono 300 biglietti a disposizione dei tifosi cavesi perché tale è il numero degli spettatori che il settore ospiti dello stadio Mario Piccerillo di Santa Maria Capo Avetere può contenere I tagliandi costano 10 euro più diritti di prevendita del circuito Go2 e a Cava sono in vendita fino alle ore 19 del sabato perciò nessuna possibilità di acquistarli al Piccirillo nel giorno della gara Anche i tifosi samaritani saranno presenti nel settore tribuna abitualmente da loro frequentato l'arrivo della Cavese certamente richiamerà più pubblico anche se c'è da dire che la sconfitta subita dal Gladiator ad Ardea ha fatto imbestialire molti tifosi nero-azzurri i quali hanno paura che l'anno prossimo l'anno del centenario della fondazione del Gladiator possa coincidere con una retrocessione Il campionato è iniziato da un mese e tanto può ancora accadere perciò è preventivabile una reazione decisa da parte dei calciatori allenati da Luigi Pezzella sul campo così come può ancora accadere che anche la stessa Cavese dopo essere stata contestata dai propri sostenitori alla fine della gara con Luri possa inanellare una serie di risultati utili consecutivi Comunque perché questa escalation avvenga è fondamentale che Mister Cinelli faccia giocare i propri calciatori con quella grinta vista soprattutto contro Latte Dolce e Ischia Non basterà giocare col freno a mano tirato se il risultato non sarà stato già sbloccato Intanto per quanto riguarda gli ex metelliani dopo Pietro Fusco ha casatosi al San Marzano come direttore sportivo anche Emanuele Troise ha trovato squadra è passato infatti in Romagna e allenerà il Rimini Serie C, girone B Debutto per il tecnico napoletano lunedì sera a Ponte Dera i romagnoli sono ultimi in classifica hanno segnato addirittura 12 reti in 7 gare però hanno anche la difesa più battuta con 18 gol al passivo e quindi il nuovo tecnico dovrà lavorare soprattutto sulla retroguardia